e sopra luogo perché mica per nulla a me non piace buttare i soldi a me non piace buttare i soldi l'altro anno speso non mi ricordo 180 190 mila non è tutto perfetto ma come vedete chiaro che ci sono delle zollature che vanno rimesse a posto sono dieci giorni però questo è il campo ero qui dentro l'avete visto voi no signori fa dieci giorni e comunque l'unico difetto che oggi è stato riscontrato nel campo che deve esserci più dell'85 per cento del verde che attualmente c'è e ci sarà o per zollatura o per finire però le puttanate non si possono raccontare perché le puttanate fanno male tutto ha un limite qui da quando sono qua porca la puttana solo ho messo solo soldi sul piatto tutti a rompere i coglioni e ci sarà un limite no e dai il limite l'abbiamo raggiunto quindi saluto la politica locale arrivederci io le cose che dico io le faccio a differenza degli altri che continuano a parlare del fatto che io non ho sistema la giunta precedente nemmeno conosceva il valore del bilancio è sempre stato detto in tutte le televisioni 200 milioni 220 milioni il bilancio del comune di terni è di 416 milioni bisogna cominciare a sapere di che cacchio se parla inutile che continuiamo a fare le chiacchiere destra o sinistra questa città sta come sta perché è stata gestita male bandecchi se ne può anche andate fame non muore arrivederci